Temptation Island sta tenendo tutti col fiato sospeso e il pubblico soprattutto ha chiesto chiarezza sulla coppia che sarebbe stata squalificata. E proprio nelle ultime ore è arrivata un'informazione che probabilmente chiude definitivamente il discorso. E Filippo Bisciglia non sappiamo se vorrà intervenire per fare altre precisazioni ancora più dettagliate. A Temptation Island si è vociferato di una coppia squalificata, ma non sono stati fatti nomi. Per questo motivo c'è stata una sorta di indagine giornalistica affinché si potesse sapere tutto. E ad apprendere tutto in anteprima è stato il sito fanpage, che è riuscito a contattare qualcuno vicino alla trasmissione, che ha fornito tutte le delucidazioni del caso. Secondo queste indiscrezioni emerse dopo la seconda puntata di Temptation Island, non sarebbe stata raccontata la verità su questa coppia che sarebbe stata squalificata. Si era parlato dell'ipotesi che avessero finto di essere legati sentimentalmente solo per ottenere celebrità televisiva. E che quindi gli autori si fossero infuriati, cacciandoli dal resort. Fanpage ha contattato alcune fonti vicine alla fascino, la società di produzione di Temptation, che hanno smentito categoricamente la squalifica di una coppia. Nessuno si sarebbe comportato in maniera scorretta e quindi l'avventura sarebbe terminata regolarmente per tutti i concorrenti dell'edizione 2024. Intanto, ricordiamo che la produzione ha annunciato nelle scorse ore che a settembre Temptation Island raddoppia. Per partecipare alla prossima edizione iscrivetevi su wittitu.it o chiamatelo 06.3721721. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.